Sì, hai visto che prestanza fisica? Anzi, scommetto con tutti che arrivo prima a Ruscello, via! Meno tre! Meno due! Meno uno! Abbasso, Ruscello! Ma chi è che arriva finito? Allora, Giovin Signore non si sente bene? Si è stancato troppo ieri, vediamo un po'. Respira, trattieni il fiato, bene, ancora... Non è nulla, un po' di bronchite. Un pacchi di semi di lino, un paio di giorni a letto e tutto tornerà a posto. Maria? Maria? Soccolo.